Come mai non si vede in giro l'antimateria? Se, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, alla produzione di una particella corrisponde anche la produzione della sua antiparticella, perché il mondo che vediamo è fatto solo da materia? Se tutto avesse viaggiato in simmetria perfetta, questo non sarebbe dovuto succedere. L'universo, per come noi lo conosciamo, non avrebbe dovuto neppure formarsi, in quanto materia e antimateria avrebbero dovuto annichilarsi a vicenda. Ma siamo sicuri che nell'universo ci sia solo materia? Potrebbe essere che in realtà vi siano esattamente la stessa quantità di materia e antimateria e noi semplicemente siamo su un pianeta fatto di materia. Abbiamo modo di sapere come sono fatti gli altri pianeti del Sistema Solare, il Sole, le altre stelle? E le altre galassie? Andiamo a darci un'occhiata. Ehi, non è che non me ne sono accorto, è specchiata. No, erano le sigle delle altre puntate a essere specchiate. Questa è quella giusta. Simmetria P. Sigla. Per quanto riguarda il nostro Sistema Solare, problemi non ce ne sono. Siamo andati sulla Luna, abbiamo fatto scendere sonde e rover in giro e soprattutto c'è il vento solare, che sono sciami di particelle. Se fossero antiparticelle, e dunque il Sole fosse fatto da antimateria, ce ne accorgeremmo e rileveremmo una notevole quantità di raggi gamma dovuti alle annichilazioni, che di fatto non vediamo. Qui da noi dunque tutto regolare. Raga, tutto rego. In realtà, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, rileviamo un po' di antimateria nei raggi cosmici, dovuta all'impatto di questi ultimi con i gas presenti nell'atmosfera terrestre. Ma si tratta di poca roba. Siamo però sicuri, ad esempio, che un'altra stella non sia fatta da antimateria? Tutto ciò che possiamo osservare di mondi lontani è lo spettro luminoso. Il problema è che lo spettro luminoso di una stella formata da antimateria non ha nulla di diverso dallo spettro di quella formata da materia. È difficile che stelle dalle nostre parti siano antistelle. Dovremmo trovare in giro resti di antimateria dovute alle esplosioni di antistelle e nei raggi cosmici che entrano nella nostra atmosfera non è mai stata trovata traccia di antimateria. Se poi si fossero distrutti nel loro viaggio nello spazio, dovremmo rilevare da qualche parte lampi di raggi gamma dovuti all'annichilazione. E invece niente. Anche se lo spazio interstellare è pressoché vuoto, se sei un antiprotone e viaggi per centinaia di migliaia di miliardi di chilometri, prima o poi qualcosa lo becchi. Anche sull'aspetto galassie sembra esserci dominanza di materia. Se alcune galassie fossero di antimateria, collidendo con altre galassie sarebbe un delirio. Invece noi vediamo scontri di galassie senza che vi siano annichilazioni di nessun tipo. Insomma, le uniche tracce di antimateria che riusciamo a percepire sono quelle dovute alle collisioni della materia. L'esempio per l'appunto che dicevamo dello scontro fra raggi cosmici e l'atmosfera terrestre. Quindi roba che compare e svanisce subito. A questo punto però l'ipotesi che nell'universo vi siano quantità uguali di materia e antimateria non è ancora crollata. Certo vacilla, ma non possiamo escludere che per quanto tutto ciò che vediamo sia fatto di materia, la parte di universo per noi troppo lontana per essere vista possa essere fatta in parte di antimateria. Come se a un certo punto materia e antimateria si fossero separate e avessero dato luogo a due universi isolati. È un'ipotesi certo, ma per avvalorarla dovremmo comunque capire come questa separazione può essere avvenuta. E i modelli che oggi interpretano il funzionamento del nostro universo tendono ad escluderlo. Anzi, l'idea più accreditata è che inizialmente vi sia stata una grande annichilazione e che il nostro universo sia solo il residuo di questo evento e che, per ragioni che ignoriamo, a un certo punto sia prevalsa la materia. Immaginatevi due eserciti formati dallo stesso numero di soldati. Tutti forti uguali che si scontrano singolarmente ammazzandosi tra di loro. Ogni duello tra due soldati si conclude con la morte di entrambi. Se tutto fosse simmetrico, alla fine della battaglia sul campo non dovrebbe esserci nessuna forma di vita. Ma poniamo che avvenga qualcosa di inaspettato e che, di fronte a uno scontro diretto, alcuni soldati si dimostrino più forti del loro omologo nell'esercito opposto. E, di fatto, riescano ad uccidere il nemico senza soccombere. Beh, ci troveremo che a fine battaglia una fazione ha vinto. Magari su migliaia di soldati partiti alla fine ne restano solo una decina, ma dall'altra parte sono invece tutti morti. Ecco, quello che i ricercatori vogliono trovare è quel dettaglio che ha fatto sì che a un certo punto la battaglia abbia preso una piega a favore della materia. E dunque, alla fine di questo grande scontro, l'antimateria fosse tutta finita, mentre di materia ne restava ancora qualcosa. Da quel che sappiamo, materia e antimateria si sono formate come coppie simmetriche di oggetti speculari. Se qualcosa di strano è successo, deve essere avvenuto negli istanti iniziali di vita del nostro universo. E parlo di un miliardesimo di secondo. Lì qualcosa ha dettato lo squilibrio a cui assistiamo oggi. Gli scienziati, per rispondere a questa domanda, si sono dunque lanciati alla ricerca di una qualche assimmetria, di un dettaglio, magari minuscolo, che sia però stato elemento chiave perché a un certo punto il sistema universo abbia scelto la strada della materia. Ma in che momento avrebbero dovuto verificarsi queste ipotetiche violazioni dell'assimmetria? E se si erano verificate, avevano lasciato una qualche traccia. Infiliamoci per qualche minuto nelle strettoie del mondo subatomico. Ci mettiamo a dieta e si parte. Ci mettiamo a dieta, ho detto. Se dovessimo ripercorrere la storia delle particelle subatomiche, troveremmo un mondo che pian piano si popola. A volte viene chiamato anche zoo. Celebre fu la frase di Rabi che, alla scoperta del muone, sbottò. E questo, chi è che l'ha ordinato? Quasi fosse un pranzo dove arrivavano portate inaspettate e impreviste e soprattutto molte di più di quelle che ci si immaginava. Noi ci addentreremo nel mondo affascinante delle particelle subatomiche soltanto per quello che riguarda strettamente il nostro scopo. È giusto sapere che il mondo come noi lo conosciamo è formato da minuscoli mattoncini, per la precisione 12, ossia la materia è riconducibile a 12 particelle elementari, 6 quark, 3 neutrini, 1 elettrone e 2 particelle imparentate con l'elettrone. Coerentemente con ciò che ci si aspettava, ogni particella elementare aveva la sua corrispondente antiparticella nel mondo dell'antimateria. Ma allora, perché da noi c'è solo materia? A un bel momento qualcosa ha fatto propendere la natura per una parte piuttosto che per l'altra. È quella che viene chiamata rottura della simmetria. A prima vista non sembrerebbe essere una cosa strana. Andiamo a vedere dei casi in cui la natura a un certo punto ha fatto una scelta. Pensiamo alla posizione di alcuni nostri organi. Il cuore ad esempio è a sinistra. I due emisferi del nostro cervello sono profondamente diversi. Ma scendendo più nel minuscolo, dove forse sembra più logico aspettarsi una totale simmetria, ci accorgiamo che le molecole del DNA ad esempio formano una spirale sinistrorsa. La natura rispetta generalmente la simmetria P. Ma capita che per motivi di tipo chimico, fisico o banalmente, perché si trova a un bivio, talvolta decida di prendere una direzione e rompa spontaneamente la simmetria. Questo non deve portarci però a conclusioni errate. Nel caso del DNA ad esempio la simmetria P resta comunque rispettata in tutte le interazioni elettromagnetiche che lo coinvolgono. Abbiamo visto nella scorsa puntata che alcune sottili differenze esistono, soprattutto per quanto riguarda il decadimento di alcuni tipi di mesoni. Nel 1967 il fisico dissidente sovietico Andrei Sakharov, che quando le serate si facevano noiose diceva io Andrei e questa la tagliamo, Sakharov si accorse che la violazione CP che avevamo rilevato era troppo misera per spiegare la ragione del predominio della materia sull'antimateria. E mette a punto un modello cosmologico in cui individua le condizioni che sono necessarie perché la violazione di una simmetria possa portare a uno squilibrio tale da giustificare il prevalere della materia. A tutt'oggi non abbiamo ancora elementi e tecnologia sufficiente per poter verificare quanto predetto da Sakharov. E mi permetto un attimo una breve parentesi perché la storia di Sakharov va quantomeno accennata. Inizialmente lavora allo sviluppo degli armamenti nucleari, poi capisce che quella follia può portare alla distruzione del genere umano e si trasformerà in uno dei più convinti sostenitori del disarmo nucleare. Attività questa che lo porterà a conseguire il premio Nobel per la pace nel 1975. Il regime sovietico non apprezzerà questo riconoscimento e cinque anni più tardi lo esilierà in Siberia. Solo nel 1986 Sakharov riottenne la libertà, ma resisterà ancora solo tre anni, spegnendosi poco prima del grande disarmo che aveva tanto auspicato. Per completezza aggiungo un dettaglio al discorso sulla simmetria che avevo fatto nella puntata numero 5. Noi cataloghiamo le interazioni in natura in quattro tipologie, quella gravitazionale e quella elettromagnetica, più due interazioni nucleari, la debole e la forte. Ecco, le piccole violazioni della simmetria di cui abbiamo parlato interessavano sempre l'interazione nucleare debole. Ed è strano perché nel modello che si utilizza per descrivere le particelle non viene nessun impedimento a che venga violata la simmetria anche per l'interazione nucleare forte. Ora non voglio dilungarmi sulle tante idee messe in campo da vari gruppi di ricerca, ma prima di finire volevo comunque accennarvi a un'ipotesi suggestiva. È la predizione della presenza negli istanti primordiali di una particella poi svanita nel nulla. Il fatto che anche colui che ha avuto questa intuizione un giorno sia svanito nel nulla rende il tutto molto più accattivante. Il 27 marzo del 1938 si trova a Palermo, forse in procinto di imbarcarsi su un piroscafo per Napoli. Da quel giorno di lui non si ebbe più alcuna notizia. Aveva 31 anni ed è da molti considerato lo scienziato più precoce, misterioso e geniale del ventesimo secolo. Il suo nome era Ettore Majorana. Se, come abbiamo visto nella scorsa puntata, il neutrone ha carica neutra, ma al suo interno si muovono tutta una serie di altre cose, che dire del neutrino? Il neutrino è molto più effimero. Il neutrino è proprio da solo. Cioè lì non è che c'è una struttura interna. Come è fatto allora l'antineutrino? Come lo distinguiamo? Il neutrino è un personaggio ineffabile perché ha una massa quasi nulla, non ha carica elettrica, viaggia velocissimo e ha un'interazione con la materia, anche questa pressoché nulla. Apparentemente sembrerebbe impossibile riconoscere un neutrino da un antineutrino. Ma se così fosse, chi ci dice che il neutrino sia fatto da materia e non invece da antimateria? Bisogna puntare la lente di ingrandimento su un dettaglio. Il neutrino gira come una trottola e si è dunque pensato che il senso di rotazione potesse essere il discriminante per farci capire se stiamo vedendo un neutrino o un antineutrino. Una breve parentesi, ci sono cose che non appartengono né alla materia né all'antimateria, come ad esempio i fotoni. Ma i neutrini sappiamo che appartengono al mondo della materia e di conseguenza l'antineutrino appartiene al mondo dell'antimateria. Queste cose che noi chiamiamo genericamente materia e antimateria nel mondo delle particelle prendono il nome di fermioni in onore di Enrico Fermi. In decenni di studi fatti sui neutrini si è notato che in determinati processi si liberano dei neutrini che girano in senso orario e in altri si liberano dei neutrini che girano in senso anti-orario. Potrebbe dunque trattarsi di neutrini e antineutrini? Ricordo che indagare il mondo dei neutrini è molto complicato e ancora oggi i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione non ci permettono di avere grandi sicurezze. Osservando il fatto però che un neutrino, per effetto di interazioni con altre particelle, può invertire il suo senso di rotazione, ci ha riportato a un'ipotesi che originariamente era stata pensata da Majorana. Ossia che non vi sia nessuna differenza fra neutrino e antineutrino. E' come se fossero due manifestazioni della stessa particella e di conseguenza una sorta di veicolo per la transizione da materia ad antimateria. Questo ha portato a una speculazione che consiste nell'ipotizzare la presenza di un tipo di neutrino chiamato Majorone con una massa consistente che sarebbe comparso all'inizio del Big Bang per poi estinguersi, lasciando però in un certo senso in giro i suoi figli. Il Majorone ipotizzato, decadento, avrebbe dato vita a neutrini e antineutrini con un processo però non simmetrico. E' come se, banalizzando, tutti i processi dessero vita a parti gemellari, formati da un maschio e da una femmina. Mentre i Majoroni, come succede alla razza umana e alle razze animali, partoriscono chi capita. E quindi dopo un tot di parti potrebbe esserci una prevalenza di maschi o di femmine. E questa potrebbe essere l'assimmetria all'origine del nostro universo. Ora, non che ci interessi in particolare il Majorone. Quello che mi preme lasciare come concetto è che le ipotesi sono tante e suggestive. E bisogna lavorare di fantasia per immaginarsi le varie situazioni. E poi lavorare tanto di matematica per vedere se sono plausibili. Vorrei quindi fosse chiara l'idea che il nostro universo è molto probabilmente il resto di una grande annichilazione. Studiare l'antimateria ci aiuta dunque alla comprensione di quel momento in cui la nostra storia è iniziata. 14 miliardi di anni fa. Minuto più, minuto meno. Ma a cos'altro può essere utile l'antimateria? A far funzionare motori di astronavi? Forse. A creare bombe per distruggere il Vaticano come ipotizzato in un celebre romanzo? In realtà l'antimateria la utilizziamo già e in modi molto interessanti. Ne parleremo nella settima e ultima puntata dal futurista titolo una nuova fonte di energia. Futurista. Grazie a tutti per sopportarci ma anche per supportarci acquistando il libro a quattro zampe nel cosmo, il cd materia oscura corpi celesti oppure iscrivendovi al canale, cliccando sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video che arrivano o anche facendo donazioni alla nostra associazione atelier ma anche invitando amici a conoscerci magari condividendo i nostri video sui social. In descrizione vi metto il link alla nostra pagina di crowdfunding un abbraccio e un arrivederci a quella che sarà la settima e ultima puntata sull'antimateria. Il nostro amico Dirac. Che altro ha detto? Parlava sempre molto poco ma era molto puntuale nelle sue uscite. Dirac era refrattario ad ogni fede religiosa e soprattutto ad ogni credenza nel trascendente. Durante un convegno che si era tenuto in un castello un ospite raccontò che in una determinata stanza a mezzanotte spesso si manifestava un fantasma e Dirac chiese a mezzanotte ora di Greenwich o ora legale? un o fet da Adversfte a mezzanotte ora diatas a mezzanotte ora mi